spettacolando tv grande debutto il 7 gennaio del di il basso giusto francesco branchetti interpreta in questo caso anche regista sì esatto interpreta il regista e il il bacio è un testo di Gerties che è un autore olandese lo lascio dire a te perché è difficilissimo difficilissima la pronuncia ed è il maggiore autore olandese di teatro è un autore vivente è un autore a noi contemporaneo ed è un testo che ho letto anni fa e che appunto sono anni che desideravo di portare in scena è nata anno scorso questa possibilità per cui debutteremo adesso stiamo facendo le prove in teatro e debutteremo al Fellini di Pontigna il 7 di di gennaio è un testo che è una praticamente è un incontro tra un uomo e una donna che però hanno due vivono di una profonda solitudine la solitudine contemporanea del diciamo di essere da soli di fronte ad un mondo che a volte non ci ascolta il testo se io devo trovare ecco una 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 particolarità in questo testo è proprio la semplicità di raccontare le nostre insicurezze tutte le nostre paure più profonde e l'incontro tra tra appunto tra un uomo e una donna che vivono i propri le proprie paure i propri fallimenti e di saper raccontare l'incontro di due infelicità e che cosa può fare l'incontro tra due personaggi che vivono in felicità profonde e che cosa può può nascere di positivo e magari di e magari di felice e magari di di speranzoso tra l'incontro tra appunto in un incontro tra un uomo e una donna sull'orlo della disperazione sull'orlo della della appunto del questo uomo e le donne si incontrano praticamente in un bosco in un bosco sono delle delle si incontrano ripetutamente prima prima casualmente poi sempre più volutamente in in un bosco e ed inizia praticamente come la genesi di un sentimento cioè la nascita praticamente di un sentimento d'amore dalla ma proprio passo dopo passo dai primi timidi avvicinamenti dalla 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 dalle prime piccole verità rivelate dalle dalle bugie dalle dalle prime schermaglie dalle prime schermaglie amorose di questi due personaggi e la nascita di un sentimento che si fa sempre sempre più forte chissà magari di un di un di un di un futuro che entrambi magari non immaginavano senti io leggendo le note di regia mi sono resa conto di cioè mi sono trovata come di fronte non l'ho visto lo spettacolo ma sono curiosa di vederlo di fronte ad un quadro di bosch mi sembrerebbe con dei simbolismi particolari la la nostra la nostra la nostra scenografia praticamente realizzata da nostra scenografia e alessandra ricci una scenografa molto brava con cui già avevo lavorato anni fa quando ho portato in scena il girotondo di schnitzler praticamente è una scenografia molto molto che si diciamo ci fa capire che siamo in un bosco ma è un bosco molto 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 particolare molto surreale molto animato pieno di pieno di 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 ci sono dei sentieri ci sono dei sentieri e ci sono ci sono dei caprioli che si vedono ci sono degli orsi cosa rappresentano in psicanalisi i sentieri rappresentano in nel nostro testo rappresentano vie vie diverse diciamo di vogliamo chiamarla di 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 guarigione o di rinnovamento perché anche questo testo anche la storia di due personaggi che hanno la forza di di cambiare di 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 e nell'incontro nell'incontrarsi trovano la forza e la e la determinazione di di cambiare se stessi vuol dire che c'è una una risoluzione ai loro problemi esistenziali assolutissimamente sì e questa e questa e questo rinnovamento questa rinascita questa trasformazione è appunto è istillata dal dal sentimento del del dell'amore questo è un è uno spettacolo che anche una 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 storia d'amore chissà rappresenta il bacio in questo testo un bacio un bacio vero o un bacio rubato o addirittura un bacio immaginato allora il allora allora il 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 bacio diciamo verso cui si tende per tutto lo spettacolo culmina in un momento molto particolare molto molto particolare dove no non è immaginato questo bacio ma è un è un è davvero una una genesi molto 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 complessa e lunga questa di questo bacio e quindi ci sono si va dalla 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 adolescenziale seduzione alla al fraintendimento più totale diciamo anche a momenti a momenti di comicità fino a fino 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 al dramma per cui è un bacio che assume tantissime forme per cui è uno spettacolo e da un certo punto di vista in cui il bacio a del anche una valenza erotica ma anche drammatica è un bacio difficile un bacio molto difficile è la seconda volta che tu lavori con barbara si 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 hai fatto una medea per due anni esatto esatto cosa che ti piace di più di barbara allora la cosa che mi piace di più di barbara è che a parte il fatto che è una meraviglia lavorarci parlo di professionalità parlo di dedizione parlo di cose che adesso è molto molto difficile trovare e ed è lo dico per me un attore è qualcuno con cui proprio lo dico letteralmente un regista muore dalla voglia di lavorare e barbara è un'attrice con cui io muoio dalla voglia di lavorare cioè vengo alle prove volentieri quando un regista viene volentieri alle prove perché ha voglia di lavorare non arriva l'avevo chiamata ma non arriva per cui ecco no mi trovo molto 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 bene insomma è una è stata una bellissima esperienza medea e lo è altrettanto insomma questo bacio insomma di cui stiamo ultimando le prove vorrei dire una cosa saremo al in giro in in italia insomma diciamo nei maggiori teatri italiani saremo nelle grandi città a bologna a torino a milano e a firenze e inizieremo debutteremo il 7 gennaio al teatro fellini di pontinia e subito dopo saremo il 13 14 e 15 gennaio al al deon a bologna e poi a seguire a milano al teatro delfino a febbraio il dal la prima settimana di febbraio e a firenze a marzo alla diciamo nella prima nella prima metà di marzo e chiuderemo la tournée a torino appunto alla fine marzo io aggiungo una cosa forse risulterò banale però un bacio aiuta a vivere meglio e soprattutto aiuta a ritrovare quello che si è alle quello che uno è a livello adolescenziale ma anche un cammino e un percorso sentimentale di vita io vorrei dire una cosa tu hai colto esattamente questo è un testo che nelle prove lo stiamo capendo sempre di più ci riporta e fa venire fuori sia sia dell'uomo che della donna che non sono dei ragazzini fa tornare fuori lati adolescenziali e fa rivivere riscoprire dei lati adolescenziali per cui il bacio è anche il bacio di due ragazzini il bacio può passare dal candore più assoluto all'erotismo più sfregato assolutissimamente d'accordo grazie grazie a te grazie iscriviti al canale